Grazie Presidente, le immagini che mi stanno arrivando in questo momento dal territorio sono inquietanti e spaventano perché stiamo parlando di un ecosistema, quello del Lago di Como, fragilissimo, è inutile dire di quale livello e pregio paesaggistico per tutta l'Italia sia quel luogo. Ci sono, per chi non sa la geografia di quel luogo, è facile capire, le sponde del Lago di Como sono abbastanza ripide e ci sono un'unica strada che ne fornisce la viabilità. Le frane hanno interrotto, oltretutto arrivando all'interno dei centri abitati, ma di centri abitati conosciuti in tutto il mondo, come per esempio Cernobbio, hanno bloccato le strade e i paesi hanno come unico sbocco il Lago, ma si sta pensando di interrompere anche la navigazione perché i detriti che stanno occupando il Lago rendono pericoloso anche navigare. Per cui la situazione è molto grave e teniamo presente che stiamo intervenendo in un'area dove in questo momento è piena stagione turistica dopo un anno e mezzo di lockdown che già ha provocato un disastro per le attrezzature ricettive dell'epoca che ricordiamo sono un biglietto da visita per l'Italia nel mondo perché il Lago di Como è considerato esattamente uno dei fiori all'occhiello del nostro paese. Le immagini, ripeto, sono inquietanti, si vedono auto portate dai torrenti, si vedono frane in posti dove io che sono di quei luoghi non immaginavo mai che avrebbero potuto esserci degli smottamenti di questo tipo. Per cui mi auguro davvero che si accenda un immediato faro su questa situazione perché ci sono dei danni che si stanno presentando come veramente importanti e veramente gravissimi. Quindi il mio pensiero è quello di tutto il gruppo nostro per i cittadini dell'area colpita e teniamo presente anche una viabilità maggiore perché dal Lago di Como transita poi tutto il traffico per la Valtellina che stiamo parlando quindi di un'area immensa come viabilità e come importanza che rischia di trovarsi isolata.